Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono sempre Mirko di Gruppo Carmeli ed oggi siamo a bordo del nuovo Qashqai e-Power. Intanto che partiamo ve lo descrivo un attimo. Allora, innanzitutto vi descrivo cosa significa e-Power. e-Power è una nuova tecnologia Nissan che ti permette di vivere l'esperienza dell'elettrico senza il bisogno di ricaricare. Come funziona? Questo Qashqai è equipaggiato con un motore 1.5 3 cilindri che serve solo ed esclusivamente ad alimentare la batteria ed il motore elettrico da 190 CV che si trova sulle ruote anteriori. Questo quindi ti permette di andare come un'auto elettrica senza avere bisogno di fermarti necessariamente ad una colonnina di ricarica perché ti basterà avere benzina nel serbatoio in modo che il motore 1.5 vada a ricaricare la batteria o direttamente ad alimentare il motore elettrico in caso ci sia bisogno di potenza extra. Dopo questi primi metri a bordo di Qashqai vi devo dire che la prima sensazione che provo è una sensazione di estrema tranquillità, una sensazione di estrema fluidità di guida perché sembra veramente ragazzi di guidare un'auto elettrica ma passiamo proprio a come si comporta la macchina. Dalle prime sterzate diciamo noto un'elevata reattività e non me l'aspettavo perché solitamente su auto con un baricentro così alto ti aspetti che sia un po' ondezzante, ti aspetti un po' di beccheggio, un po' di rollio ma devo dire che l'assetto su questa Qashqai è veramente ben fatto. Vi dirò di più. Avevo provato la Qashqai e Power Concept. Ce l'ha stato consegnato un esemplare di Qashqai e Power qualche mese fa e l'avevo provata e devo dire che secondo me ora che siamo a bordo della versione diciamo conclusiva, quella che trovate in vendita ora la sento molto molto fluida ed è davvero un piacere guidarla. Ora voglio provare subito le pedal, infatti con questa modalità, con le pedal attivato noi praticamente guidiamo la macchina solo con il pedale dell'acceleratore noi per esempio adesso stiamo andando a un'andatura costante perché con il piede mantengo la stessa posizione se invece noi adesso stiamo arrivando alla rotonda noi per frenare non dovremo toccare il freno ma dovremo semplicemente rilasciare il pedale come avete visto la macchina ha frenato da sola e vi devo dire sinceramente sempre confrontando il Qashqai e Power che avevamo provato nella versione diciamo iniziale è migliorato anche parecchio la sensibilità delle pedal perché adesso è veramente fluido ricordo sulla prima versione che era un po' scattoso diciamo il pedale era molto e forse troppo sensibile perché proprio ad un minimo spostamento del tuo piede subito la macchina frenava invece adesso devo dire che è diminuito un po' la sensibilità ed è super confortevole è super confortevole veramente hanno fatto un bel aggiornamento delle pedal ed è molto molto comodo brava Nissan per il resto ragazzi sembra veramente di guidare un'auto elettrica quindi abbiamo tutta la coppia abbiamo tutti i 300 Nm subito è proprio come un'auto elettrica ragazzi silenziosa scattante anche agile da questi primi metri di guida devo ammettere che è veramente veramente agile mi piace molto non sembra proprio di guidare un SUV perché sembra che abbia proprio un assetto molto basso intanto mi sono appena accorto che se oltrepassiamo la linea il volante inizia a vibrare e anche qui devo dire che secondo me l'hanno aggiornato e l'hanno migliorato perché sull'altro Qashqai che ci avevano mandato restituiva un feedback un po' tremolante e invece adesso lo senti proprio leggermente la correzione la senti leggermente e non è troppo invasiva anzi direi che ci sta direi che è perfetta adesso direi che è veramente perfetta al momento devo dire ragazzi che mi sta piacendo molto questo Qashqai un altro punto di forza di questo Qashqai Power sono sicuramente gli interni un bel passo avanti ai modelli precedenti perché guardate ragazzi gli interni sono tutti ricoperti di pelle abbiamo un bello schermo dove c'è il navigatore e tutti gli altri sistemi di assistenza e dell'infotainment ed è un piacere guidare questo Qashqai ti senti veramente coccolato quando lo guidi ti senti coccolato parliamo un po' della posizione di guida devo dire che i sedili sono davvero comodi e sprigionano diciamo una sensazione di qualità come vi ho detto prima secondo me Nissan con questi ultimi modelli ha fatto un bel passo in avanti con gli interni e che direi ragazzi la qualità si sente tutta comodissimo anche l'adapt display non so se da questa telecamera si vede ma è estremamente comodo l'adapt display ci dice la velocità a cui stiamo andando e ci indica anche il limite della velocità da rispettare vedete la gomma che diventa blu sul display vuol dire che quest'auto sta rigenerando l'energia che si produce in frenata quindi non abbiamo solo il motore 1500 che dà alimentazione alla nostra batteria e al nostro motore elettrico ma abbiamo anche la frenata rigenerativa che grazie alle pedale ottimizzato riusciamo a recuperare energia in qualsiasi momento appena molli il pedale dell'acceleratore entra subito in funzione la rigenerazione molto bello display perché si vede anche quando si accendono gli stop posteriori è veramente bella questa interfaccia grafica mi piace tantissimo ora per esempio stiamo rigenerando totalmente anche se io ho un briciolo l'acceleratore premuto l'auto comunque in discesa rigenera ora vediamo come si comporta in città in città devo dire che al momento si destreggia benissimo l'auto anche se non è proprio piccolissima la senti proprio tra le due mani non ti sembra di guidare un barcone o un'auto comunque grande e pesante la senti veramente te la senti veramente in mano vi direi che sembra quasi di guidare un'utilitaria allora ragazzi approfitto un attimo di questa sosta per farvi vedere anche esteticamente quanto è bello il nuovo Qashqai E-Power poi di questo colore secondo me è proprio la morte sua questo rosso è qualcosa di veramente speciale ragazzi guardate poi gli interni di che qualità sono questi interni ragazzi davvero interni di ottima qualità molto 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 comodi insomma questo Qashqai E-Power questo Qashqai E-Power mi piace veramente tanto ragazzi vi faccio vedere un attimo anche gli interni qui dietro veramente veramente spazioso finestrini oscurati finestrini laterali ma anche questi qui dietro sono tutti oscurati anche il baule devo dire che è spazioso è perfetto veramente per la famiglia si può anche ottenere un po' più di spazio ribaltando i sedili posteriori e di certo non poteva mancare la chiusura automatica ora torniamo in concessionaria provando il navigatore vediamo se trova Gruppo Carmeri ah interessante questa cosa quando andiamo a scegliere la nostra destinazione abbiamo tre opzioni il più rapido eco e il più corto in questo caso la strada è una sola e quindi è uguale diciamo quello che scegliamo è la stessa cosa ah e poi parte seguire la strada per 300 metri parte automaticamente se noi non lo scegliamo dopo qualche secondo parte la prima opzione possiamo anche apprezzare ora che sta diventando un po' più scuro i fari full led devo dire che anche se che ore sono? anche se sono le 4 e mezza fanno già una bella luce molto bello anche il navigatore che quando devi svoltare o devi prendere comunque una direzione diversa di marcia si sdoppia diciamo da una parte viene più zoomato invece dall'altra resta un po' più indietro diciamo che è molto difficile sbagliare con un navigatore così i sedili poi sono belli avvolgenti soprattutto qui sotto qui sotto me lo sento che mi avvolge bene la schiena ed è veramente molto 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 comodo intanto vi vorrei dire ragazzi che siamo partiti con 320 tipo chilometri di autonomia abbiamo girato un bel po' e ne abbiamo ancora ben 308 anche la retrocamera comunque ragazzi è fatta veramente da dio c'è anche la modalità 360 e vedi davvero davvero vedi perfettamente quello che stai facendo perfetto ragazzi siamo giunti alla fine anche di questo video vi invito ad iscrivervi al canale per restare aggiornati sulle ultime uscite e ci saranno davvero tante novità vi invito inoltre a prenotare subito un test drive di questo magnifico Qashqai e-Power visitate il sito www.gruppocarmeli.com ciao e al prossimo video ciao